Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cinema. Alla Taormina Film Fest Lucio Di Mauro ha intervistato i protagonisti del nuovo film I peggiori giorni. Sentiamoli. Quanto è bello stare in famiglia a Natale o no? E il primo maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? A proposito, ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto scherzetto agli sconosciuti? Insomma dopo i migliori giorni arrivano sempre i peggiori giorni. Quattro nuovi episodi per un film corale che fra ironia e amarezza sonda l'animo umano e le sue miserie. I peggiori giorni dal 15 agosto al cinema da un'idea di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Al Festival del Cinema di Taormina abbiamo incontrato i protagonisti. Io non posso far altro che ringraziare il festival. Per me è stato un attestato di stima enorme che mi ha emozionato, mi ha commosso e comunque i premi non sono tutti uguali. Prendere un premio in una cornice come quella del teatro antico è qualcosa di profondamente emozionante e mi riporta a quando qui c'erano i Nasti d'Argento dove io ho avuto la fortuna di essere premiato più volte. Quindi è un luogo al quale sono particolarmente legato. Riusciamo a trattare diversi argomenti, ognuno a modo suo, Edoardo ha il suo stile, io il mio però abbiamo un'unità di intenti, raccontare un po' a che punto siamo, come siamo messi in questo momento rispetto a degli argomenti vitali. È un film che parla di rapporti, di relazioni, che suggerisce come andrebbero fatti certi rapporti e certe relazioni e come quando non vengono fatti bene le cose vanno a scatafascio. Certo, è sempre un film, la realtà è molto più amara e cruda rispetto ai nostri film, però devo dire che ci siamo, come dire, divertiti a cercare di creare un film che racconti un po' le idiosincrasie degli italiani. Ci sono i giorni belli, ci sono i giorni cattivi, ci sono i giorni brutti, il Natale però si passa sicuramente in famiglia, però succede qualcosa. Il Natale si passa spesso in famiglia e succede sempre qualcosa, per cui mi viene da dire che volendo possiamo scegliere di non starci, però quando ci stiamo succede sempre qualcosa e soprattutto scoppiano delle bombe, perché non si dice la verità durante tutto l'anno e quindi durante quel giorno in realtà vengono fuori le meschinità e le menzogne. Senti, il tuo personaggio particolare, quindi a parte che hai partecipato anche nel passato sempre con i due registri, ma il personaggio particolare qui ha per quanto riguarda i peggiori giorni? È un politico il mio personaggio, è una donna di sinistra che porta avanti delle istanze, delle battaglie civili molto importanti, ma che poi in realtà non riesce ad aderire completamente a questo suo profilo politico nel personale e quindi vengono fuori quelle che sono delle meschinità e degli atteggiamenti diciamo così non proprio nobili da un punto di vista umano, da un punto di vista morale viene da dire, però è molto divertente perché poi la commedia cosa fa? Riesce a disegnare quelli che sono dei caratteri precisi degli esseri umani, anche attraverso la cattiveria e niente fa più ridere della cattiveria nel cinema. Halloween, fa terrore? Beh, diciamo che intanto a me non mi fa né caldo né freddo Halloween perché è una festa di importazioni, io non l'ho mai vissuto perché sono di una generazione che non lo annoverava, insomma, questo giorno tra le feste, però insomma poi piano piano l'ho conosciuto, dovrebbe far paura, però è una paura bianca diciamo, no non è una paura drammatica. Il film invece, l'episodio del film che parla di Halloween diciamo è un'occasione per questo uomo per fare un percorso riabilitativo da un punto di vista psicologico e quindi diciamo che Halloween porta bene a lui. Il primo maggio è davvero la festa dei lavoratori? Eh beh, insomma così dicono, poi ci sono lavoratori e lavoratori, nel nostro caso ne raccontiamo due pur molto diversi, tra di loro anche come collocazione sociale, sono un operaio e il suo padrone che siamo abituati poi a vedere contrapposti e che invece poi alla fine, una volta chiarito che ormai l'umanità si suddivide in due macro-categorie che sarebbero i vincitori e i vinti, sono costretti a riconoscersi uguali, tutti e due vinti, insomma. Cambiamo argomento e parliamo di calcio. È sbarcato ieri all'aeroporto Bellini, mister Luca Tabbiani, nuovo tecnico del Catania. Ad attenderlo all'aeroporto Etneo c'era, tra gli altri, il direttore sportivo del club rossazzurro Antonello Laneri. È iniziato dunque il nuovo corso del Catania che dopo la promozione in Serie C, in questa stagione tenterà l'assalto alla Serie B. Nei prossimi giorni ovviamente entrerà nel vivo anche il calciomercato dei rossazzurri con le scelte che saranno condivise da allenatore e dirigenza. E mister Tabbiani, dopo il suo arrivo, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club rossazzurro. Sentiamolo. Ho visto gente all'aeroporto, tante richieste di foto, si percepisce appena si arriva la passione che hanno i catanesi nei confronti del Catania. Quindi è un grande orgoglio essere qua. Non ho avuto più colloqui con il direttore perché in questo periodo parlavamo di idee magari da poter affrontare oppure discutevamo sui ragazzi che facevano parte già l'anno scorso della Rosa. E quindi domani incontrerò il vicepresidente dopo averlo incontrato tante volte prima di trovare l'accordo. Quando era a Cremona il Catania ha vinto il campionato di Serie B. Io mi ricordo una partita che perdemmo 4-1 in casa, se non sbaglio, c'era tutta la curva, ospiti, piena dei tifosi del Catania. Quell'anno appunto il Catania vinse il campionato e è un ricordo di una squadra all'epoca forte, ma soprattutto di una tifoseria che seguiva in massa la squadra. I ricordi che ho di Catania sono molto positivi e soprattutto vedendo l'anno scorso tutto il percorso che hanno fatto i tifosi allo stadio e la squadra mi fa capire che sono arrivati in una grande piazza e sono, ripeto, come ho detto prima, orgoglioso di poterne fare parte. Tutti quelli al quale ho detto vada Catania, vada Catania, la prima risposta è una città bellissima, una città stupenda e quindi sono curioso di vederla. Forza Catania! Parliamo di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino settimanale diramato dalla regione siciliana. Un decremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia in linea con la tendenza nel territorio nazionale è quello che si registra dai dati raccolti nella settimana di riferimento tra il 19 e il 25 giugno contenuti nel bollettino settimanale redatto dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute. L'incidenza di nuovi soggetti positivi riportati ai sistemi di rilevazione dei test antigenici o molecolari e diagnosticati nel periodo è pari a 368 casi, meno 19,65%. Il tasso di nuovi positivi riportati più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Trapani, Palermo e Messina. Le fasce di età più a rischio risultano quelle degli over 90, tra i 70 e i 79 anni e tra gli 80 e gli 89 anni. In calo le nuove ospedalizzazioni, ma più di metà dei pazienti ricoverati risulta non vaccinata. Relativamente ai vaccini, nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono pari al 22,16% del target regionale. 57.842 bambini, il 19,05%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,91% del target regionale. I soggetti che hanno completato il ciclo primario sono l'89,52%. Per lo stesso target, il 9,09% rimane ancora da vaccinare. Sono ancora 1.120.983 i cittadini che, maturato il diritto di ricevere la terza dose, non hanno effettuato la stessa. Nello specifico, i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.774.287, pari al 71,22% degli eventi diritto, incluso il target 5-11 anni. Dal 13 luglio 2022 sono state effettuate complessivamente, per i residenti in Sicilia, 244.006 somministrazioni di quarta dose, di cui 214.402 a soggetti over 60. La cronaca. A Palermo, i carabinieri hanno tratto in arresto un 49enne autore di una tentata rapina. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un palermitano di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata rapina impropria. I militari, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti presso un'attività commerciale nel quartiere di Brancaccio. Il 49enne, bloccato dal titolare del negozio, avrebbe rubato diversi prodotti per un valore commerciale di poco più di 150 euro. e nel tentativo di scappare avrebbe provato a oltrepassare la cassa con forza. Il proprietario, al quale è stata restituita la refurtiva, nella colluttazione con il rapinatore, ha riportato delle ferite sul braccio, giudicate guaribili in cinque giorni. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Palermo, che ha disposto, nei confronti del 49enne, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Quattro invece gli arresti effettuati a Trapani dalla polizia per una tentata rapina in banca. Avevano tentato una rapina la filiale della banca a fide di Trapani nel febbraio 2022. I quattro presunti rapinatori tratti in arresto nei giorni scorsi dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani, con il supporto di quella palermitana, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Trapani su richiesta della locale procura. In particolare, tre degli indagati, di cui due destinatari di custodia in carcere e uno della misura cautelare degli arresti domiciliari, sono stati arrestati a Palermo. Il quarto, finito anche egli ai domiciliari, a Marsala. Quanto all'evento criminoso, il 1 febbraio 2022, tre soggetti, tutti travisati, al fine di accedere alle cassette di sicurezza e alla cassaforte dell'istituto che effettua prestiti su pegno, avevano cercato di immobilizzare con violenza un dipendente all'atto del suo ingresso pomeridiano in banca. Di fronte alla resistenza dell'operatore bancario, i soggetti non erano riusciti nell'intento e si erano allontanati precipitosamente a bordo di un'auto con pendio di furto, poi abbandonata, e di altri veicoli. Le indagini, avviate a partire da una minuziosa ricostruzione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza della zona e proseguite mediante attività intercettive e tecnico-scientifiche, nonché con l'esecuzione di una complessa ricostruzione dei dati del traffico telefonico, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei quattro soggetti, di cui uno, rimasto fuori dall'istituto, aveva svolto la funzione di autista. Decisiva anche un'impronta rilevata dalla polizia scientifica su un foglio affisso da uno dei soggetti all'ingresso della banca per simulare la chiusura dell'istituto. Controlli dei carabinieri tra Ispica, Rosolini e Noto sono stati sospesi, un allevamento e un caseificio. Vediamo perché. Prosegue incessante l'attività dei carabinieri al servizio della collettività, non solo attraverso il fondamentale e imprescindibile servizio di prevenzione e repressione dei reati svolto dall'arma territoriale, bensì attraverso il qualificato e competente contributo di asset specializzati sempre a sostegno del comparto territoriale per il bene della cittadinanza. In tale cornice, i carabinieri della compagnia di Modica, unitamente a quelli della limitrofa compagnia di Noto, supportati dai militari appartenenti al nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa e al reparto tutela agroalimentare di Messina, hanno svolto approfonditi controlli ad allevamenti e imprese del settore alimentare insistenti nei territori di Ispica, Rosolini e Noto. Grazie all'esperienza dei militari, dei reparti specializzati, opportunamente formati nei settori di competenza, è stato possibile riscontrare numerose mancanze, da quelle igienico-sanitarie alla più tecnica assenza di documentazione amministrativa. In particolare, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un allevamento di ovini e caprini, circa 700 capi di bestiame, di fatto non a norma, ubicato nei territori di Ispica e Rosolini. Il proprietario, allevatore pregiudicato classe 75, è stato sanzionato per numerose violazioni, la mancanza dell'autorizzazione a movimentare il bestiame, la produzione di alimenti non conformi, l'omessa registrazione dell'allevamento, l'irregolare identificazione degli animali, l'assenza della predisposizione delle procedure per l'autocontrollo, nonché la sussistenza di consistenti carenze igienico-sanitarie. L'allevatore, proprietario anche di un caseificio in Contrada Renno, nel comune di Noto, era peraltro sprovvisto della segnalazione certificata di inizio attività. I militari dell'arma hanno poi proceduto al sequestro di 15 kg di formaggio e alla distruzione di oltre 100 litri di latte di pecora, combinando sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 6.000 euro. Sulla scorta della segnalazione effettuata dai carabinieri, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Siracusa ha disposto la sospensione dell'attività imprenditoriale fino a che l'azienda non si conformerà alle prescrizioni imposte dalla legge. Ci fermiamo qui, a più tardi, per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e delle carabinieri